Musica Ben ritrovati amici di Sei a Casa, benvenuti ad una nuova puntata. Oggi parliamo di formazione, ma prima saluto il mio compagno di viaggio Matteo Bursi. Buongiorno, buon pomeriggio a te Angela Boloni. Oggi andiamo a tuffarci negli istituti di Santa Paola con una eccellenza, perché di questo si tratta recente, ma con grandi prospettive. Eh sì, ne parliamo con il professor Riccardo Furgoni, coordinatore del corso di laurea magistrale in restauro, benvenuto. Grazie. E con la professoressa Anita Bigi, coordinatrice del corso triennale di tecnico del restauro, benvenuta. Grazie. Cosa dici? Partiamo da un servizio che abbiamo realizzato nel telegiornale, poi approfondiamo il discorso in studio. Ha da poco mosso i primi passi e mostra già gambe solide per il futuro. Studentesse e studenti che scelgono il corso di laurea da tutta Italia è un sempre più diffuso gradimento da parte delle aziende. Bilancio positivo per il primo semestre del corso di laurea magistrale degli istituti Santa Paola. Il corso di laurea per restauratori di beni culturali sta accogliendo nel segno. Il dato più rilevante per la direzione del Santa Paola sono le richieste che arrivano dalle aziende per avere a disposizione gli studenti per gli stage. Sicuramente il bilancio è positivo. E lo stiamo vedendo anche dall'interesse che hanno i restauratori, le aziende di restauro a richiedere in stage i nostri allievi. Non voglio esagerare, però gli allievi che escono dagli istituti Santa Paola hanno una buona preparazione. Perché chi lo dice? Le aziende stesse, gli operatori del settore quando ci richiedono i nostri allievi per fare gli stage. E poi tantissimi vengono assunti. Abbiamo un tasso di occupazione molto elevato e questo ci riempie d'orgoglio. Quindi vuol dire che siamo sulla strada giusta. L'impegno è notevole, però devo dire che la collaborazione con la soprintendenza di Mantua che è nuova quindi per il territorio è estremamente importante e proficua e sta dando degli ottimi risultati. Sia come crescita della scuola ma anche come possibilità di operare al meglio per restituire delle opere che hanno bisogno comunque di interventi, di conservazione e credo che il punto di riferimento della scuola di restauro degli istituti Santa Paola sia importante sia per la formazione ma anche per la crescita del territorio secondo noi. In una terra che ha da secoli arte, cultura e architettura impressi nel proprio DNA in pochi mesi si sta diffondendo un'opportunità concreta di crescita per giorni da tutto il paese. Decine infatti gli studenti che hanno scelto il corso di restauro di Santa Paola trasferendosi a Mantua dall'Alto Adige come dal centro o sud Italia. Professor Furgoni, quindi un bilancio sicuramente positivo per questo primo corso magistrale appunto di laurea con interesse di scontrato a livello nazionale. Studenti arrivano davvero da tutta Italia. Sì assolutamente, ormai il primo anno accademico è in corso di chiusura, mancano circa due mesi la conclusione ufficiale delle lezioni e siamo molto soddisfatti, siamo molto soddisfatti anche soprattutto del modo in cui questo nuovo corso si è integrato con la scuola preesistente perché bisogna dire che è partito quest'anno il corso di laurea ma la scuola di restauro fondamentalmente c'è da più di 20 anni quindi insomma bisognava anche far funzionare bene tutte e due cose come spazio, come articolazione didattica e tutto il resto cosa che è veramente diventata assolutamente positiva anche come esperienza in questo senso. Gli studenti provengono da tutta Italia, già anche gli altri in effetti devo dire che arrivavano un po' da tutto il bacino italiano abbiamo avuto anche esperienza di qualche allievo arrivato addirittura dall'estero in passato e in questo senso devo dire che sono molto soddisfatto anche della risposta degli allievi perché l'impegno di tutti quanti gli allievi iscritti quest'anno è stato ottimo abbiamo avuto superamento praticamente di tutti da parte degli esami quindi esperienza davvero positiva per tutti. A me è colpito quando sono venuto a trovarvi per il telegiornale il rapporto instaurato con il territorio l'ha detto anche poco fa nell'intervista il direttore allora un conto, la rilevanza non prescinde da questo la rilevanza del corso in sé, del corso di laurea magistrale ma un conto è avere un'offerta un conto è che questa offerta sia riconosciuta dal territorio in qualche modo sfruttata, metteteci le virgolette che volete dal territorio laddove si ha bisogno perché le opere da riprendere, da restaurare, ammalorate ci sono ovunque nelle chiese e non solo nei palazzi e qui ci si rivolge, e sono diversi i casi, al Santa Paola Sì, questa è una cosa virtuosissima cioè purtroppo non sempre i corsi di laurea sul territorio riescono a ricadere in questo modo perché è normale, a volte magari ciò che viene studiato non ha una ricaduta immediata così diretta anche durante il percorso di studi si immagina più che abbia un ricaduto una volta che il professionista è stato formato è così anche in questo caso certamente cioè saranno professionisti che poi sono chiamati a intervenire saranno chiamati a intervenire comunque dovranno metterci del loro anche per recuperare il patrimonio artistico del nostro territorio, ma non solo ovviamente ma la cosa appunto positiva è che già durante il corso di laurea c'è questa sinergia insomma tra territorio e istituzione formativa che consente alla scuola di portare già un grande beneficio a molte delle opere che fanno parte appunto delle nostre chiese o comunque dei nostri palazzi più importanti Ecco, professoressa Bigi, un corso di laurea che si affianca ad un corso appunto triennale ormai presente da oltre 20 anni sul territorio Sì, diciamo che è una dualità che abbiamo inteso mantenere magari diverse sedi di altre tipologie di corsi di restauro hanno fatto la scelta di basarsi unicamente sulla laurea quinquennale in realtà è proprio il mercato del lavoro che ci fa questa richiesta nel senso il triennio è spesso frequentato da studenti che hanno già una laurea triennale nell'ambito artistico e che cercano quindi diciamo una concreta possibilità lavorativa sempre rimanendo in questo ambito direi che non c'è crisi neanche per il triennio cioè gli studenti in orientamento noi facciamo orientamenti personalizzati con l'illustrazione esattamente di quello che lo studente andrà a fare di quale titolo studio potrà conseguire e di quale prospettive potrà avere alla fine e ci sono diversi studenti che fanno proprio la scelta consapevole del triennio vogliono entrare prima nel mondo del lavoro non sono magari interessati a un percorso di laurea vogliono però un'ottima formazione Certo La vastità della offerta formativa degli istituti di Santa Paola la raccontiamo periodicamente questo è solo uno dei tanti capitoli perché è rilevante oggi ne approfondiamo ma ha una complessità appunto di offerta direi unica a livello territoriale nell'appunto diversificazione dei corsi il fatto di riuscire ad attrarre da fuori provincia poi c'è anche il caso magari da fuori nazione ma questo magari è più straordinarietà all'interno del percorso è di per sé inusuale lo dico proprio dal cronista per Mantua perché se un'offerta formativa riesce intanto ad attirare e a far trasferire in questa città decine, possiamo dire abbondanti, di giovani è un dato da sottolineare in una terra che come offerta formativa non riesce altrimenti a farlo Sì, sicuramente per giustizia devo dire che anche i corsi d'area attivi a Mantua del palo universitario sono riusciti in parte a ottenere questo e ne va anche a do sicuramente merito certo possiamo dire che questo risultato non l'abbiamo ottenuto grazie a un'istituzione puramente mantovana perché ecco questa è la cosa leggermente diversa quindi la ricaduta territoriale c'è allo stesso modo come accade nel palo universitario vero e proprio ma diciamo che qui condita anche un po' di più da una cosa campanilistica che è positiva Assolutamente perché lo dico agli amici a casa la realtà magari universitaria tradizionalmente intesa che attrae in alcuni corsi non è di matrice totalmente mantovana ma si può parlare del Politecnico piuttosto che dell'Università di Modena Reggio Emilia o di Brescia delle partnership che però non nascono da questo territorio Esatto, in questo senso devo dire che è un po' una riprova anche che le cose da noi sono funzionate bene ma in generale anche se dovessimo trasladarle da nostra esperienza anche altrove si può dire che se si mette impegno probabilmente anche il territorio mantovano sotto tutti i punti di vista quindi anche quello delle istituzioni formative o delle iniziative formative può secondo me essere assolutamente attrattivo devo dire una cosa, gli studenti e i genitori degli studenti con cui siamo comunque in contatto anche nella fase di iscrizione cerchiamo di dare agli studenti un po' un'assistenza davvero a tutto tondo che quindi a volte va a coinvolgere anche le famiglie in un certo senso apprezzano moltissimo la città cioè non bisogna pensare forse a volte è un po' un ragionamento banale, comune che gli studenti siano attratti soltanto dai grandi centri cioè vogliono per forza andare a Milano, a Torino, a Roma perché la grande città in sé sembra essere più universitaria oggi la richiesta è molto diversificata in particolare le città più piccole che hanno anche un grande patrimonio storico, artistico ma anche hanno un buon impianto urbanistico come la Mantua attraggono moltissimo quindi sono un bacino probabilmente da secondo me sviluppare nel tempo non solo per Mantua ma anche per altre città simili alla nostra Le attività o gli appuntamenti che gli studenti si troveranno tra poco a dover affrontare? Allora diciamo che già dall'inizio dell'anno quindi già da gennaio sono attive delle attività proprio di orientamento noi siamo stati presenti un po' in tutti i grandi le grandi kermesse diciamo di orientamento a Verona anche nella tua Verona ovviamente perché è imprescindibile è stata per noi un'occasione veramente splendida ma siamo in contatto con molti istituti superiori che ci chiamano ahimè a volte anche da zone molto lontane perché ci dobbiamo organizzare diciamo anche in modo tempestivo per fare orientamento agli studenti quindi in quell'occasione noi diamo a loro la disponibilità in tutto il periodo anche estivo di poter avere degli appuntamenti a volte anche con i docenti stessi che arrivano con i loro gruppi di studenti per visitare la realtà formativa e questo è molto importante perché funziona direi i ragazzi sono molto disorientati hanno bisogno di vedere, di capire e soprattutto di fare una scelta consapevole ebbene grazie mille per essere stati con noi buon lavoro si guarda già l'anno prossimo in qualche modo abbiamo intuito ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità a tra poco grazie a tutti